amici del canale benvenuti nuova lezione dedicata a un argomento molto ampio molto importante soprattutto nella lingua italiana oggi parliamo dell'accento andiamo cioè a parlare di quel punto della parola dove cade l'accento vedremo perché serve molto importante perché da il tono alla parola e da il tono al nostro discorso andiamo a parlare di termini di parole di verbi di aggettivi di nomi e andiamo a capire come e dove cade l'accento sulla parola un preambolo semplice mi scuso già in anticipo se capiterà che sbaglierò in alcuni casi si sbaglia registrando le lezioni alle volte si sbaglia come vedete ultimamente soprattutto negli ultimi anni non interrompo non cancello non ho delle interruzioni quindi non cancello le parti dove sbaglio e ahimè purtroppo questo implica che alle volte si fanno degli errori e rimangono registrati quindi mi scuso in anticipo se faccio degli errori non sono un linguista non ho una dizione perfetta ecco lo dico soprattutto perché poi vedo come commenti delle critiche di qualsiasi tipo dalla semplice hai sbagliato che ovviamente è accettabile quindi la critica ci sta siamo molto contenti sono molto contenti noi con i miei collaboratori di avere della critica perché ci si corregge non sono contento però di quelle critiche del tipo cioè più pesanti ecco insomma magari fino agli insulti però più pesanti del tipo cos'è questa roba eccetera eccetera cioè se i nostri i miei ascoltatori alcuni dei miei ecco non tutti assolutamente poi sono molto grato alla maggior parte dei miei follower ma se ai miei follower o chi guarda i video non piacciono i miei video può andare a vedere qualsiasi altro canale può andare a spasso può andare a mangiare il gelato possono fare quello che vogliono non guardate i miei video quindi se pensate che ci siano degli errori correggetemi con cortesia io sono gentile però per andare a fare dei commenti assurdi andate a spasso ok quindi chi vuole vedere i miei video continui a vedere i miei video se vi piacciono io non lo faccio per soldi non lo faccio per il successo lo faccio per il mio piacere se non vi piacciono se piuttosto che criticare in modo sbagliato andate a spasso andiamo subito con il video la lezione sull'accento andiamo a vedere come funziona l'accento in italiano l'accento nella lingua italiana l'accento può avere varie funzioni culminativa indicare qual è la sillaba tonica di una parola la tonica cioè quella dove che viene pronunciata con più intensità rispetto alle altre farò perché se non fosse farò vi faccio notare che sarebbe faro faro è il faro che c'è sulle coste della della liguria ecco sulla sulla costa per illuminare le navi il faro farò è il futuro del verbo fare sono due parole diverse già qui vediamo che l'accento costruisce due parole diverse perché è un'altra parola poi abbiamo l'accento fonetico quindi la funzione fonetica distinguere la pronuncia aperta o chiusa di una vocale in questo caso l'accento può essere di due tipi acuto e per indicare la pronuncia chiusa e grave è per indicare la pronuncia aperta pesca 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 o pesca quindi se sono una la pesca quindi quella che si pesca quindi la pesca sportiva o la pesca che è il frutto distintiva quindi la funzione distintiva distinguere due monosillabi uguali con significati o funzioni grammaticali diverse né o né quindi ne mangiamo molti quindi è una funzione una funzione o né uno né l'altro non mangerò né uno né l'altro quindi la funzione sono due funzioni grammaticali diverse quindi solo per distinguere ovviamente poi dipende sempre dal contesto come si legge la frase si capisce quale è la funzione di quella particella però è giusto mettere l'accento per distinguere nettamente in questo caso che hanno proprio due funzioni diverse l'accento tonico nell'italiano parlato quando si pronuncia una parola polisillabica quindi con più di una sillaba che ha più di una sillaba si mette l'accento su una specifica sillaba quindi quando ha una sillaba è ovvio che l'accento cade lì non ha altre possibilità di muoversi no quindi però dove abbiamo più di una sillaba si mette l'accento su una specifica sillaba in particolare sulla vocale ovvio questo significa che quella sillaba viene pronunciata con più intensità rispetto alle altre esempi sera mattina sabato pomeriggio pomeriggio domenica quindi provate queste parole a spostare l'accento e no se vogliamo provare possiamo fare sera completamente diverso mattina oppure sabato oppure pomeriggio oppure domenica ecco stiamo travolgendo l'italiano lo so ma è solo per far capire che noi ce l'abbiamo mai nella testa con la sua lingua nella testa il modo di leggere le proprie parole che sono di uso comune e non fa neanche più caso che l'accento dove cade molto importante ok abbiamo ormai diciamo nella nostra mente appunto schematizzato individuato in modo inequivocabile che l'accento deve essere proprio messo su una specifica sillaba per alcune parole ovviamente altre ma sono più difficili per riferirsi a questo accento che viene espresso oralmente e viene percepito attraverso l'ascolto si parla di accento tonico quindi l'accento tonico dove mi cade l'intensità maggiore della parola la sillaba vocale su cui cade l'accento tonico è detta tonica ok quindi domenica la sillaba è il me la sillaba me mentre le altre sillabe vocali sono dette atone cioè non hanno l'accento noca non cade l'accento perlomeno in quella parola quindi do ni e ca sono atone me è quella tonica le parole italiane vengono classificate in quattro categorie principali a seconda della posizione dell'accento tonico ecco sembra sbagliato a leggere la parla frase scusatemi le parole italiane vengono classificate in quattro categorie principali ecco a seconda della posizione dell'accento tonico vedete che ogni tanto faccio gli errori anche nelle letture a seconda di come viene posizionato l'accento tonico ecco un punto tronche allora l'accento cade sull'ultima sillaba però lunedì ok quindi l'ultima sillaba caffè città l'ultima silva sempre l'ultima quindi in questo caso sono tronche può esserci poi possono avere possono avere molte sillabe tantissime però l'ultima è quella dove cade e finisce l'accento poi abbiamo le piane le piane l'accento cade sulla penultima sillaba sera mattina ok quindi trovate parole che sul che hanno appunto più sillabe e l'accento cade sulla penultima ok quindi dove non sono tronche iniziano a essere piane ok quindi iniziano a essere piano nel senso che l'accento cade sulla penultima silva poi abbiamo le sdrucciole le sdrucciole l'accento cade sulla terz'ultima sillaba come domenica o come semaforo o come ricordati ok e sono tantissime un dizionario pieno di parole di espressioni di verbi di coniugazioni fatto ovviamente di anche di accenti poi abbiamo le bisdrucciole l'accento cade sulla quart'ultima sillaba ad esempio spiegamelo o abitano compramelo ok quindi provate cercate altre parole ovviamente vedete che queste iniziano ad essere già dei composti spiegare spiega me lo abitano questo qui è una terza persona plurale del verbo abitare abitano compramelo ok quindi eccetera eccetera quindi se vogliamo se vogliamo giocare un po con gli accenti possiamo possiamo leggerle sbagliate solo per capire che sono sbagliate spiegamelo spiegamelo o abitano abitano mi sembra di sentire o a staglio olio abitano compramelo compramelo si leggono così bisogna abituarsi ovviamente anche questo è lingua nel senso che anche queste abitudine quindi sapere come leggere sapere come individuare questo ovviamente viene dalla lettura viene dall'ascolto eccetera eccetera però abbiamo individuato i quattro le quattro categorie principali di dove va a cadere l'accento tronche piane sdrucciole bisdrucciole esistono anche ma in categoria molto categorie molto più contenute nel senso che sono pochissime le trisdrucciole quadrisdrucciole e anche qualcosa da 5 ecco però sono molto molto essenziali ce ne sono pochissime se volete andatevele a cercare qualche parola molto composta c'è che è trisdrucciole eccetera eccetera quadrisdrucciole come possiamo capire dall'esempio l'italiano scritto nell'italiano scritto l'accento tonico va assegnato solo nel caso delle parole tronche quindi le prime quando io dico però lunedì caffè città eccetera eccetera quindi va assegnato l'accento nelle parole tronche si parla in questo caso di accento grafico perché è scritto quindi sostanzialmente andiamo individuare la parola ed è rimasta così graficamente scritta proprio per dare il senso della dell'accento tronco quindi dalla parola tronche dell'accento che cade sull'ultima silva quindi è rimasto scritto proprio graficamente quell'accento qualche regola generale e come si costruiscono gli accenti sulle parole la maggior parte delle parole italiane sono piane cioè hanno l'accento sulla penultima sillaba come pane sole lavoro settimana casa gatto cane eccetera quindi la penultima sillaba dopo le parole piane vengono le parole sdrucciole con l'accento sulla terz'ultima sillaba come ridere domenica sabato lo aggiungo io incarico tavolo provate dite delle parole vedete se finiscono solitamente o nella nel gruppo delle piane o nel gruppo delle sdrucciole e vi faccio notare che mentre sto parlando sto costruendo degli accenti sulle parole ogni parola che dico ha un accento quindi potete prendere anche le mie parole e provare a vedere a quale di questi due e poi altri gruppi appartengono meno frequenti nell'italiano sono invece le parole tronche con l'accento sull'ultima sillaba come però caffè lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì città eccetera eccetera e le parole bisdrucciole con l'accento sulla quarta ultima sillaba quindi quelle che avevamo visto appunto nella nella slide precedente queste ultime le bisdrucciole in particolare sono spesso parole come vi ho già detto a cui si sono aggiunti dei pronomi atoni ad esempio portamelo telefonami portamelo telefonami quindi portamelo sulla sulla o ma vedete che c'è melo portamelo a me quello quindi portami portami porta a me lo oppure telefonami telefonare telefona me quindi telefonami abbiamo anche la raggruppamento appunto del pronome per identificare a chi bisogna telefonare non esiste un metodo per capire dove cade l'accento nelle parole italiane ma ci sono alcune regole generali che possono aiutare le parole di tre queste sono regole grammaticali che fanno parte della della grammatica ok quindi io vi consiglio come abitudine leggete tanto ascoltate tanto perché è molto importante perché si va a emulare a simulare quello che qualcosa qualcun altro fa o qualcun altro dice in questo caso perché parliamo di lingua e quindi si impara però ci sono comunque sempre delle regole che si possono rispettare si può già iniziare a capire che quella parola e siccome è di tre sillabe eccetera eccetera l'accento cade in un certo punto o no e leggiamole le parole di tre o più sillabe che finiscono con una vocale preceduta da due o più consonanti sono sempre piane cassetto vedete che ci sono due consonanti preceduti da due o più consonanti cassetto formaggio conveniente quindi queste parole saranno lette in questo modo cassetto formaggio conveniente ok e ripeto perché hanno l'ultima nel prima dell'ultima sillaba appunto ci sono due o più consonanti ci sono però alcune eccezioni come le forme verbali seguite da un pronome atono e alcuni altri casi scrivermi anche se ci sono due consonanti qui abbiamo scrivermi e non scrivermi oppure polizza e non polizza anche se ci sono due vedete ovviamente ci sono le regole ci sono le eccezioni quindi bisogna ricordarsi anche come dico sempre alcune particolarità altra altra regola le parole sostantivi che finiscono in agine agine igine igine edine udine sono sempre sdrucciole quindi l'accento cade sulla terza sillaba partendo ovviamente dal fondo voragine stupidaggine origine origine lentigine raucedine solitudine inquietudine ok quindi abbiamo la appunto quelle che terminano con quelli che abbiamo letto prima sono sempre sdrucciole abbiamo l'accento sulla terza sillaba le parole con almeno quattro sillabe che finiscono in abile ibile evole ico aceo ognolo oide sono sdrucciole quattro sillabe mi raccomando amabile contabile imperdibile amichevole autentico cartaceo amarognolo androide eccetera eccetera le parole dotte composte da termine di origine greca che finiscono in cefalo crate dromo fago filo fobo fono foro gamo geno gono grafo logo mane metro nomo stato tesi tero sono sempre sdrucciole non ci si possono ricordare tutti questi sfido qualsiasi italiano diciamo che non sia un linguista a ricordarsi questo questo elenco di parole sono parole di origine greca sono molto usate in italiano ce ne sono molte le vediamo adesso e o come sempre ricordatevele se potete le identificate perché si capiscono che sono di origine greca essendo italiani abbiamo una certa diciamo feeling con alcune parole che sappiamo che hanno una certa origine e non sono obbligatorie ecco da non dovete sapere la memoria insomma non assolutamente come anche quelle precedenti ripeto dico sempre praticate ascoltate però comunque è sempre bene identificarle ad esempio di quella di quelle di quelli di quei termini che abbiamo detto sopra abbiamo molte parole che sono encefalo burocrate ippodromo esofago cinefilo claustrofobo microfono semaforo bigamo indigeno decagono autografo catalogo mitomane termometro ok ci sono delle parole difficili ma ci sono anche delle parole molto comuni come catalogo come semaforo ok e queste sono parole di origine greca perché finiscono per foro finiscono per logo finiscono per grafo eccetera eccetera come abbiamo visto sopra queste sono tutte sdrucciole quindi l'accento cade sulla terza sillaba quando va scritto l'accento quando dobbiamo mettere l'accentatura nell'italiano scritto l'accento accento grafico cioè scritto va indicato solo in alcuni casi come le parole tronche cioè quelle che hanno l'accento tonico sull'ultima sillaba e alcuni e alcuni monosillabi parole con una sola sillaba che vanno distinti da parole omofone pronunciate nello stesso modo che hanno lo stesso suono ma con un significato diverso quindi andiamo a vedere appunto identificare quali le tronche e alcuni monosillabi in alcuni testi particolari però ad esempio nei dizionari e nelle grammatiche l'accento grafico spesso compare anche nelle parole dove normalmente non va messo perché serve a far capire come deve essere pronunciata quella parola indicando dove cade l'accento tonico e se la vocale sia aperta o chiusa quindi nei dizionari abbiamo graficamente la visione dell'accento sulla parola vi faccio un esempio che è quello tipico ancora o ancora quindi già se io devo andare a cercare su un dizionario la parola ancora devo distinguerla dalla parola ancora che sono due parole diverse perché una è un avverbio di tempo e l'altra è l'ancora che si usa sulle navi come prima vi dicevo faro o farò quindi solo per cercare una parola per saperne il significato devo andare a cercare quella parola con l'accento giusto perché altrimenti ho il significato dell'altra quindi già per quello poi dentro il dizionario vedrete che vi fa vedere anche come viene pronunciata la parola quindi non c'è solo il semplice accento che cade sulla sillaba ma ci sono anche più ovviamente come in tutti i dizionari di tutte le lingue ci sono più descrizioni di come si pronuncia come cade la parola l'accento aperto o chiuso le parole tronche più comuni in italiano che quindi vogliono un accento sono le parole tronche sono note adesso ne vediamo molte i verbi al passato remoto alla terza persona singolare andò, parlò, sentì, partì eccetera eccetera terza persona singolare mettete tutti i verbi che volete al passato remoto hanno l'accento sulla e sono tronche ovviamente hanno l'accento sulla prima sillaba partendo dal fondo verbi al futuro semplice nella prima e terza persona singolare andrò, andrà, parlerò, parlerà, sentirò, sentirà, partirà, partirò eccetera eccetera quindi possiamo aggiungere prima e terza persona singolare del futuro i primi cinque giorni della settimana ve li ho già detti prima lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì poi abbiamo sabato e domenica ma non hanno accento tronco non sono parole tronche e poi monosillabi terminanti con due vocali quando l'accento tonico cade sulla vocale finale può, più, ciò, già, giù i monosillabi con due vocali quindi vedete che sono composti da tre lettere ok? può fanno però accezione qui e qua che non vogliono l'accento qui e qua non vogliono l'accento e tutti gli altri vogliono l'accento perché sono composti da due vocali ci sono inoltre alcuni monosillabi abbiamo detto e non solo quelle che abbiamo già visto ci sono alcuni monosillabi con una vocale sola che vogliono l'accento perché devono distinguersi dagli omofoni cioè quelli che hanno lo stesso suono ad esempio da terza persona singolare di dare Mario da il quaderno a Luigi terza persona da preposizione da Roma Mario viene da Roma ok? non è un verbo ma è una preposizione quindi provenienza da Roma di ogni di mangio un piatto di pasta ogni giorno quindi dal sinonimo di giorno invece di preposizione il piatto di pasta di Luigi ok? quindi la cartella di Luigi come preposizione quindi notate sempre che adesso andiamo avanti nell'elenco però questa forma qui ha bisogno dell'accento per distinguerla da questa forma che abbiamo di qui quindi da da di di e la pronuncia è la stessa quindi la a e la i hanno assolutamente la stessa pronuncia e terza persona singolare si deve distinguere dal verbo perché la terza persona del verbo essere in questo caso qui si dice è un po' più accentata rispetto alla e congiunzione che è la semplice congiunzione hanno quasi un suono omofobo ma in questo caso qui è assolutamente obbligatorio mettere l'accento perché il verbo essere questo poi abbiamo la avverbio di luogo la vado la dalla nota musicale la mia cantante preferita quindi adesso ho detto nota musicale però ci sta rispetto appunto al termine che identifica l'articolo il pronome o la nota musicale il la poi abbiamo li avverbio di luogo da li pronome poi abbiamo ne congiunzione negativa da ne pronome poi abbiamo se pronome riflessivo da se congiunzione ipotetica quindi congiunzione negativa né uno né l'altro né mangio molti se pronome riflessivo se 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 lo mangia tutto quindi ogni giorno se lo mangia tutto eccetera eccetera pronome riflessivo o se se io vado a scuola domani è perché bla 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 poi abbiamo si affermativo avverbio affermativo si e no quando si dice si oppure si mangiano ogni giorno pronome riflessivo si mangiano si lavano tutti i giorni si vestono tutti i giorni pronome riflessivo a se stessi significa oppure il te bevanda o dal te pronome quindi in questo caso qua è quello che si beve in questo caso qui ti te lo mando domani inteso come pronome ovviamente quindi da una parte hanno bisogno dell'accento dall'altra no proprio per identificare per separare diciamo graficamente ma anche concettualmente le due le due diverse forme utilizzo della particella accento grave o accento acuto anche questo è molto importante ne avevamo già parlato ma lo ripetiamo e un altro particolare di cui fare attenzione quando si scrive l'accento su una parola qual è la differenza tra accento grave e accento acuto l'accento grave è indica una vocale aperta cioè l'accento acuto e indica una vocale chiusa esempio finché perché l'accento grave si usa sempre sulle vocali a u i città più laggiù lunedì non c'è differenza quindi la a accentata la u accentata la i accentata hanno sempre l'accento grave quindi non esiste l'accento acuto sempre sulla vocale o a fine parola quindi dirò farò però afferrò nella terza persona del verbo essere e quindi in questo caso qua abbiamo un accento grave sulla e scusate non e ma e la vocale è è la pronuncia sulla vocale e a fine parola nelle parole che non rientrano nei casi elencati nella prossima slide cioè 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 caffè te eccetera eccetera quindi la prossima slide invece ci dice che l'accento acuto si usa nei composti di che come perché affinché benché poiché finché nei monosillabi con e finale inclusi nella alla fine delle parole quindi monosillabi finali quindi tre quindi abbiamo composte da trentatré ventitré vicere quindi è un composto vedete che in realtà si prende la parola di origine e si appunto si pronuncia componendola con con il suo trentatré con il suo ventitré con il suo vicere nella terza persona singolare dei verbi al passato remoto poté riflette combatte né i monosillabi né e se quando accentati né uno né l'altro se lo eccetera eccetera mangia tutto eccetera eccetera che non è ipotetico ma è riflessivo e questa era l'ultima slide legata all'accento italiano ripeto ripeto e continuo il discorso che ho fatto all'inizio purtroppo posso fare degli errori certo però questa ovviamente è una piccola breve lezione con una decina di slide ci sono linguisti che che lavorano e esprimono la loro capacità e bellezza di comprendere la lingua italiana per tutta la vita avrebbero decine di ore di discorso e di errori da portare su queste ovviamente piccole slide piccoli accorgimenti che vi ho dato però questi vi sono utili per imparare l'italiano per raggiungere qualcosa di più alla vostra conoscenza alla vostra cultura sui termini italiani sull'utilizzo dell'accento e niente insomma ecco questo è il senso non prendetelo come per buono perché ho cercato di fare una lezione fatta bene molto utile penso però ovviamente sono sempre comunque una decina di slide che sintetizzano al massimo tutte le cose però ci sono altre eccezioni ci sarebbe molto di più da studiare se siete dei linguisti e volete imparare molto di più vi consiglio di andare a cercare più informazioni su dizionari eccetera eccetera perché sicuramente ci saranno molte cose fatte bene molti altri video di altri canali fatti molto bene che spiegano ancora meglio quali sono le funzionalità dell'accento italiano amici come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione la vostra presenza i vostri commenti vi chiedo come sempre un like e un seguimi sul canale www.itpertutti.it siamo su tutti i social e da un po' di tempo abbiamo già ormai lo dico ripeto ma il tempo è passato siamo su telegram come su tutti gli altri social quindi iscrivetevi perché vedrete quasi tutti i giorni quasi tutte le ore della giornata slide dedicate alle lezioni che abbiamo già fatto e che andremo a fare quindi approfondimenti sulla lingua italiana vi ringrazio a tutti commentate scrivetevi scrivetemi saluto i miei amici che sono qui di fianco non so mai da voi puntare ci vediamo prossimo sabato per una nuova lezione di italiano per tutti ciao ciao